Sono tante novità, quest'anno abbiamo uno spettacolo che debutta con Peppe Lanzetta, l'8 e poi faremo uno spettacolo il 12 con Claudio Tortora dove la sala togliamo tutte le sedie e verrà fatta una piazza dove si balla tutti gli anni 60 poi c'è Pier Vito Grisù con Gragnagliello che verranno a fare uno spettacolo e venite a trovarci Ma per quanto c'è anche Peppe Barra che lo sta? Peppe Barra sì e verrà omaggiato di un premio dedicato a Peppe Natella proprio dall'amicizia che lo legava a papà La grande magia è proprio quella di andare avanti e arrivare alla 31esima edizione anche senza pelle Era già tutto scritto, noi abbiamo solamente fatto quello che lui voleva perché era un progetto che lui già aveva stilato quindi noi l'abbiamo portato a buon fine Ciao 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 Ciao